Oh, jeez, here we go. Mr. Fedeghiko and Aldo and Fabrizio in the same room. What is this? A crossover episode? You know, that gets funnier every time. E bentornati a spin-off. Questa è la 4x02. Qua non è Federico da Berlino, ma è Aldo da Brescia, periferia e provincia, dove cazzo volete voi. Federico ci ha fatto il piacere di andare a Yellowstone, il gatto è sua moglie, ci ha fatto il piacere di portarselo via per un po'. E quindi siamo soltanto io e il buon Fabrizio da Scozia, centro. Ciao ragazzi, sei contento Aldo, eh? Che siamo una voce in meno. Ti sento proprio più scattante del solito. Ti stavo facendo la stessa identica domanda e stavo dicendo sei contento, eh, oggi? È la classica cosa del quando il gatto non c'è, i topi ballano. Ma adesso nel backstage stavamo per partire, ho detto cazzo ma mi sono dimenticato lo specchietto dei numeri. Perché so già che quando andrà online la puntata Federico sarebbe arrivato a dirci ah ma questa cosa non l'avete messa male, dovevate parlarne. E quindi, visto che dobbiamo parlare degli Emmy, perché sono i nostri Oscar, visto che noi ci occupiamo principalmente di serie TV, e questi Emmy ci hanno reso felici tutto sommato. Io sono quantomeno contento, non ho vinto, poi vedremo anche i risultati finali dei nostri sondaggi interni, ma devo dire che, a parte una piccola sorpresa che non mi aspettavo e mi ha lasciato un po' così, tutto il resto mi ha fatto abbastanza felice. Sicuramente un'edizione che ha dato i premi un po' a chi ci si aspettava, ma anche e soprattutto a chi se li meritava. Perché tra le produzioni che sono state considerate per gli Emmy, come poi succede ogni anno, che su dieci serie tu sai già che due o tre sono quelle che prenderanno tutti i premi, infatti è stato così di nuovo. E con Shogun e The Bear dall'altra non era difficile prevedere gli esiti, solo un paio di sorprese, come hai già detto tu Aldo, ne parleremo più avanti, ma direi che possiamo ritenerci soddisfatti. Sì, direi di sì. Facciamo prima un piccolo carrello veloce veloce delle nomination, partendo dai network. Netflix si presentava con 107 nomination, ha portato a casa 24 statuette delle 107, un quinto bene o male, adesso non faremo le percentuali perché non c'è Federico, non stiamo qua con l'Excel a fare i calcoli, però sommariamente un quinto se l'ha portato via, un quarto forse. FX, 93 nomination e 36 vittorie, di cui la stragrande maggioranza che dopo vediamo sono quelle di Shogun, e da qui in poi c'è un crollo verticale perché abbiamo HBO Max con 91 nomination e solo 14 statuette portate a casa, abbiamo Apple TV Plus con 70 nomination e solo 9 statuette, e dopo il nulla perché abbiamo 38 nomination per ABC e CBS, 37 per Prime Video, 33 per NBC, 26 per Hulu, 19 per Disney, produci merda per tutto l'anno, dopo non puoi stupirti che non vince un cazzo. Anche se Fallout, che non ha vinto manco uno, come stavamo guardando prima, un po' fa storcere il naso, però vabbè, non è proprio forse una serie che strizza l'occhio a quelli che sono gli Emmy, visto anche il tenore di tematiche e generi che hanno vinto quest'anno. È una serie che sicuramente interessa agli appassionati del videogioco, a quelli che magari ci avevano giocato una volta così tanti anni fa, comunque secondo me è una serie che ha una solida fanbase che lo ha pompato, oltre che secondo me essere un prodotto che può essere apprezzato da chi ama le storie senza senso, completamente demenziali, e piene di violenza. Quindi, esattamente come hai detto, non il tipo di abito ideale per questo tipo di cerimonia, però almeno uno, dai, così, per farli contenti. Mi avrebbe fatto piacere, però va bene, ci può anche stare, anche perché considerando il fatto che nelle grandi categorie Fallout era un po' il grande assente, poteva essere forse un sentore del fatto che non sarebbe stato preso in considerazione, però è comunque un piccolo dispiacere che ci portiamo dietro, ce lo mettiamo in tasca e continuiamo con lo spettacolo. Possono comunque utilizzare la dicitura Emmy nominated series, quindi è una cosa che si porteranno avanti. Mettono la scritta in grande Emmy dopo sotto il piccolo nominated, così dicono, esatto, c'eravamo noi, niente che ne avevano, 16 non ne hanno vinto manco uno, però questo è un altro discorso. Passando proprio alle serie tv, abbiamo il grande vincente, Shogun, 25 nomination per la serie di FX e 18 statuette. Ha praticamente vinto in quasi tutte le categorie in cui è stato candidato. Di per fede la percentuale esatta delle vittorie, per piacere. Ben il 72%, poi c'è da considerare che ci sono molte nomination che sono nella stessa categoria, quindi è un dato un po' farlocco perché ovviamente non è che possono vincere due candidati nella stessa categoria, tipo vedi quelli di The Morning Show che in alcune categorie su cinque erano quattro, però dà un'idea della vittoria massiccia di Shogun a questi Emmy. Serie invece che rimane col cerino un po' in mano, grande serie sconfitta a questi Emmy è The Bear che con 23 nomination ci si aspettava un unplanned e noi ce l'aspettavamo soprattutto visti i voti che abbiamo dato nella categoria comedy e invece si porta a casa soltanto, tra virgolette, 11 statuette. Sono spazio. Alla carriola sono andati via però sì, eh, poteva andare meglio. Cioè io non ho preso in considerazione nulla, proprio davvero un Mike Tyson che scende nelle categorie scrause e comincia dalla provincia per salire nell'Olimpo. Può essere la sensazione. Poi stamattina mi sono svegliato, ho guardato e c'era Axe. Sì, a sorpresa tra l'altro perché ne avevamo già parlato di come De Behar fosse una sorta di intruso lì in mezzo però una volta entrato lì dentro onestamente Axe non l'ho visto quindi di nuovo cado dal pero e mi toccherà recuperarlo come Abbot Elementary poi sono a posto con tutte le comedi però ecco tra le altre a disposizione io ho visto qualcosa e deve essere proprio bella questa Axe mi viene da dire. Non ne ho sentito parlare quindi mia colpa assolutamente però per vincere gli Emmy spodestando De Behar che sicuramente non l'hanno fatto per una forma di protesta visto che continuano a farlo e metterci chiunque e nelle altre categorie comunque Jeremy Alley White e Compari hanno vinto capisco magari non far vincere un Only Murders in the Building ma allora What We Do in the Shadows forse era la volta buona di farlo splendere non l'avrebbero mai scelto perché anche quello lì secondo me non è una comedy da Emmy è un po' troppo demenziale non c'è coinvolgimento di minoranze non c'è un messaggio esatto non c'è un messaggio forte quindi se fa solo ridere non va bene deve esserci anche il drama che poi è un po' la contraddizione stessa di tutto comunque recupererò Axe se no la curiosità mi uccide qual è la ragione per cui questo è stato selezionato rispetto agli altri colgo l'occasione per aprire un momento Federico e farti la battuta del sei dispiaciuto per la botte elementari che non ha vinto nulla ecco bravo è esattamente la domanda che mi avrebbe fatto lui non mi interessa perché come avevo già detto l'ho recuperata perché era stata nominata perché volevo capire ed è una serie che si capisce perché è stata nominata per mille ragioni ma anche perché fa abbastanza ridere poi vabbè il mockumentary qualcuno se lo guarda cito anche il fatto della sua estrema felicità dall'altra parte del mondo per la sconfitta zero vittorie di Only Murders in the Building che su 21 nomination vittorie meno di tre The Crown 18 nomination e solo tre statuette Axe 16 nomination anche lui tre dopo abbiamo The Morning Show Mr. e Mrs. Smith sempre 16 e qua abbiamo soltanto The Morning Show con tre vittorie dopo abbiamo Cascata Fargo con 15 nomination e una vittoria con Lamorn Morris Lamorn Morris non è quello che piace a Fede e che lui non ha votato perché ha detto no vabbè vado sul sicuro votando The Sympathizer Robert Downey Jr anzi sono sicuro che se torni indietro alla puntata dove abbiamo fatto le previsioni lui disse proprio Qualcuno mi deve spiegare la presenza di Lamorn Morris che io adoro dai tempi di New Girl però non ha alcuna motivazione per essere nominato qui Adesso vince Lamorn Morris Vince Lamorn Morris Lamorn Morris Lamorn Morris Ripley a cui io davo un po' più speranze avevo forse sottovalutato l'effetto Baby Reindeer anche perché Andrew Scott a me piace e la serie in generale anche a livello di fotografie eccetera mi è piaciuta molto si è portata a casa zero Baby Reindeer l'abbiamo visto molto bene perché su 11 nominations se vittorie ottima serie tv consigliamo ovviamente a me è piaciuta meno di Ripley ma sto parlando di serie tv fatte molto bene l'ultima menzione all'assente Federico sarà sicuramente molto contento ma lo scopriremo anche dopo con i suoi contributi che ci ha mandato direttamente dagli States che Lily Gladstone non ha vinto lui credo così senza ancora aver ascoltato quello che ha detto negli audio sarà contento soltanto di queste userà espressioni come mi sto segando cose di questo genere faccio questo momento pendolino che ripetiamo non era minimamente preso in considerazione da nessuno di noi però ci ha tenuto a ripadire che era contento di questa sconfitta va bene ok ragazzi sono in diretta da Yellowstone in diretta indifferita perché ovviamente sto registrando questi messaggi locali su Whatsapp poi voi li monterete a dovere ho fatto partire l'audio adesso perché sono circondato da cinesi o coreani tra l'altro prima puntata intercontinentale da sottolineare e mentre sto passeggiando per i geyser di Yellowstone commento breve su VMI che ho visto ieri sera in diretta sono soddisfatto come probabilmente dite anche voi l'unica vera sorpresa è Hux ma è una sorpresa che mi fa bene al cuore perché The Bear come già detto non deve essere parte di Aramo Comedy e quindi scoprire che Hux scoprire che Hux ha vinto sia come miglior attrice protagonista che come miglior serie comedy mi fa piacere e devo dire che a questo punto tocca recuperarlo con buona pace di Fabrizio del suo Abbott Elementary mi spiace capita io e i miei amici di Yellowstone vogliamo solo dire che siamo contenti che Shogun abbia vinto molto felici detto ciò direi che possiamo partire con questa carrellata partiamo subito con il risultato che è la cosa che primeva un po' di più Federico che poi ovviamente sei disinteressato avendo perso su 15 categorie abbiamo 5 punti per merito per me Federico e ovviamente vincente il terzo che rimane fuori Fabrizio con 9 categorie indovinate su 15 quindi ottimo risultato complimenti un applauso dalla regia grazie grazie lo facciamo scrosciare per un po' dai 9 su 15 non è male ormai non ci sono più segreti io li capisco quindi possiamo partire con le limited series ti cedo il microfono il mic allora partiamo subito dalla categoria best supporting actor in a limited series dove come abbiamo già anticipato ha avuto la meglio la Morne Morris contro ogni previsione spodestando tra l'altro Robert Downey Jr che noi avevamo dato per vincitore dopo 8 secondi netti era una delle scommesse più sicure almeno noi pensavamo fosse una delle più sicure anche perché ha interpretato 5 personaggi diversi all'interno della stessa serie quindi era una prestazione anche abbastanza impegnativa niente la spunta la Morne Morris sarà contento Fede che ci potrà dire qualcosa nel suo contributo audio guardando anche gli altri contendenti oltre a Robert Downey Jr e la Morne Morris possiamo in qualche modo capire perché la scelta se non è ricaduta su Robert Downey Jr sia immediatamente caduta sulla Morne Morris perché alla fine fra le prestazioni qua presenti forse sono le due più memorabili con un po' di virgolette mettiamola così come nome convincente all'interno della lista diciamo che non è che ce ne sia questa grande parte Robert Downey Jr si abbiamo la Morne Morris appetibile dopo di lui anche perché Tom Goodman Hill in BB Reindeer o John Hawkes per True Detective personalmente non li aver proprio neanche presi in considerazione quindi invece dall'altra parte con le donne qua la situazione cambia perché qui c'è un livello un pochettino più alto a prescindere con una vittoria schiacciante perché come anche tu potrai testimoniare è effettivamente una delle interpretazioni migliori che ho visto quest'anno a livello seriale mi ha dato proprio l'idea che Jessica Gunning fosse una persona reale non un personaggio interpretato non so se anche a te ha fatto lo stesso effetto assolutamente anche perché sembrava proprio di vivere la persecuzione di un stalker sia lei che lui in realtà ti mettevano nelle condizioni di provare la sensazione di claustrofobica paura che puoi avere da uno stalker che ti perseguita ovunque tu sia in quel momento lei bravissima forse più di lui in realtà sono combattuto sul fatto che sia stata inserita come supporting forse avrebbe meritato addirittura la matrice principale come ruolo però non contesto la vittoria assolutamente e mi va benissimo qua piuttosto di vederla magari sconfitta nella categoria principale e come dicevi tu qua dentro ci sono veramente dei nomi grossi perché abbiamo Dakota Fanning per replay abbiamo vabbè l'amica di Federico Lily Gladstone Diana Lane per Feud Anna Vamau la fidanzata di Richard Gad in sempre Baby Rain Deer e abbiamo Kali Rice in True Detective Kali Rice e Dakota Fanning potevano quasi starci però qua stiamo davvero parlando di un salto qualitativo abbastanza grosso e allo stesso modo Baby Rain Deer è riuscita a dominare anche la scena del best actor in a limited series con Richard Gad che è protagonista creatore e anche vittima della stalker non quella che è stata premiata con un Emmy ma quella reale a cui Jessica Gunning si ispira qui Richard Gad invece fa un bel colpaccio benché me lo aspettassi perché era evidente che Baby Rain Deer prendesse tutto quello che potesse prendere in queste categorie ha comunque spodestato un John Hamm un Andrew Scott così alla sua prima apparizione nel mondo proprio perché io non so voi ma Richard Gad prima di vedere questa serie non avevo idea neanche di chi fosse magari l'avevo visto per sbaglio a un Fringe Festival visto che la cosa familiare di questa serie è anche che vengono riprese un sacco di zone di posti che vedo ogni giorno e la resa ancora più personale per quanto mi riguarda mi piace soprattutto la storia dell'outsider quello che arriva da fuori con una storia scritta bene interpretata bene con un casting fatto molto bene per quei pochi personaggi che servivano e secondo me non c'era decisione più giusta perché comunque io non l'ho visto Ripley è l'unico che mi verrebbe da dire può dare veramente filo da torcere è Andrew Scott John Hamm l'ho citato ma solo per il nome è importante perché la parte che fa all'interno di Fargo è più che marginale a questo punto guarda la Morre Morris penso che abbia avuto quasi lo stesso minutaggio di John Hamm eppure John Hamm è finito ad essere il protagonista quindi io personalmente avevo votato per Andrew Scott infatti e il resto dell'idea molto personale sia stata un'interpretazione più bella e quindi pur preferendo Andrew Scott Richard Gad resta veramente un grande attore una grande interpretazione e Baby Rendear un'ottima serie senza ombra di dubbio passando al lato invece delle attrici qua abbiamo la vittoria di Jodie Foster in True Detective candidate nella stessa categoria abbiamo Brie Larson Juno Temple Sofia Vergara e Naomi Watts ora io non mi ricordo che cazzo avevo votato me lo ricordo avevi votato Brie Larson perché è Capital Marvel può essere abbiamo votato tutti a caso qua perché abbiamo votato io Brie Larson Fede hai votato Juno Temple e tu hai votato Naomi Watts quindi ognuno ha votato un po' a caso che non so manco che cazzo sia abbiamo detto dai un po' spicy questa scommessa mi fa ridere che nessuno abbia preso in considerazione Sofia Vergara comunque neanche Sofia Vergara ha preso in considerazione Sofia Vergara come dicevo prima avendo recuperato True Detective per me stagione meritevole un 6 e mezzo tranquillo non stiamo parlando della prima stagione di True Detective che poverini per loro continuano a essere un peso enorme da portarsi dietro perché tutte le stagioni che escono di True Detective escono con la frase non è come la prima stagione e lo sappiamo accantonata a questa solita frase Night Country non è una brutta serie tv forse è sempre quel True Detective che andrebbe tolto a sto punto fate delle stagioni togliendo True Detective e vi risparmiate metà dei problemi e comunque Jodie Foster molto bene rispetto all'ultima volta che l'avevo vista ossia in Iad quando ero occupata a nuotare in mezzo all'oceano e a vomitare nel poco tempo libero che le rimaneva Jodie Foster questa volta te lo sei meritato Federico non so quanto sarà d'accordo su questa cosa che Jodie Foster abbia vinto quella che io ai tempi avevo ribattezzato la Gianna Nannini di Hollywood mentre c'è una macchia coddemonio vabbè all'epoca quando abbiamo fatto le scommesse sui vincitori Aldo aveva visto solo replay io ho visto Fargo True Detective e devo dire che Fargo all'epoca mi era ovviamente piaciuto un casino questa stagione e sono abbastanza deluso che non abbia vinto niente perché soprattutto Juno Temple avrebbe meritato al posto di Jodie Foster di vincere la statuetta come miglioratrice protagonista in una serie limitata non è stato così Jodie Foster onestamente non mi è piaciuto affatto in True Detective un ruolo comunque abbastanza discutibile serie abbastanza discutibile lei secondo me ha vinto assolutamente per il nome però mentre sono qui in Luna di Miele mi sono guardato visto che è una serie abbastanza leggera e ideale per un matrimonio mi sono guardato Baby Rain Deer e devo dire che mi è piaciuto veramente tanto scritto bene diretto bene recitato molto bene a posteriori se l'avessi vista prima avessi messo anche io su Baby Rain Deer che si porta a casa giustamente questo titolo brava mamma Netflix e bravo Richard Gad quindi finita la carrellata degli attori protagonisti e attori non protagonisti arriviamo al verdetto riguardo la serie vincitrice della categoria Best Limited or Anthology Series che chiaramente è Baby Rain Deer questo era il cavallo vincente di Netflix tutto quello che è riuscito a prendere quasi tutto quello che è riuscito a prendere se l'è preso almeno nelle categorie importanti e devo dire che è un premio più che meritato non perché magari un replay o un True Detective un Fargo un Lesson in Chemistry anche se io Lessons in Chemistry non l'ho mai visto non possa reggere il confronto con questa serie che comunque è stata girata in una maniera differente non ha una qualità magari visiva che può eguagliare magari un replay per dire o True Detective è un po' più molto virgolettato casalingo perché deve darti questa sensazione come se tu fossi lì con lui all'interno della storia un po' del racconto biografico questo secondo me deve esserci ma perché è qualcosa di effettivamente un po' nuovo una cosa con cui un sacco di persone hanno immediatamente empatizzato non necessariamente perché debbano aver subito stalking ma per appunto l'interpretazione molto umana di God e della Gunning e quindi secondo me questo è proprio il premio come dovrebbe essere ovvero una serie che non partiva favorita perché non aveva magari una storia alle spalle come un Fargo un True Detective o che non aveva un cast stellare che però ha saputo intrattenere per la scrittura che è la cosa più importante in assoluto in qualsiasi opera e ha trionfato con tutti i meriti quindi un applauso a Baby Rain Deer che si è divorato la categoria limited series e stranamente ci è giunta voce da Yellowstone che a Federico è piaciuta colpo di scena perché io mi aspettavo che ci dicesse wow se ti vuoi cazzo o commenti di questo tenore invece ha detto addirittura che gli è piaciuta approdando in un terreno che non mi ha molto congeniale ossia le serie comedy abbiamo detto della grande sconfitta di The Bear ma a differenza di Baby Rain Deer qua sarà un plot twist perché prima vedevate le vittorie di Baby Rain Deer e come miglior serie antologica o miniserie tv ha vinto quella qua vedrete un sacco di vittorie di The Bear e invece arriveremo alla fine e non ha vinto quella quindi andiamo subito con la best supporting actress in una serie tv comedy ossia Lisa Colon Zayas la moglie del poliziotto di Dexter che nonostante il fatto che a me il personaggio non faccia così impazzire l'avevamo votata tutti io compreso ci abbiamo azzeccato quindi bravi tutti noi e ovviamente la prima domanda Fabrizio sei dispiaciuto per la sconfitta di Chanel James di Abbott Elementary? guarda mi sembra di avere Federico qua davanti a me è incredibile la somiglianza perché è esattamente quello che mi avrebbe chiesto e no non me ne frega un cazzo perché Abbott Elementary va bene se la vediamo magari rispetto ad altre serie tv tipo Only Murders in the Building sempre per fare contento Federico è sicuramente una, due, dieci spanne sopra però se la vediamo così paragonandola a The Bear questa mi sembrava una vittoria abbastanza facile poi vabbè l'abbiamo detto anche di altri che non l'hanno preso il premio però in questo caso guardando le altre serie a disposizione mi sembrava che Lisa Colon Zayas potesse essere un modo di portare a casa tante cose con un premio solo e ci siamo capiti e soprattutto Lisa Colon Zayas può dire di aver vinto un premio nella stessa categoria di Meryl Streep non in molti possono dirlo lei può dirlo per fortuna perché se avesse vinto anche Meryl Streep sarebbe stata per me una grandissima sconfitta ma tra l'altro nella categoria c'era un'altra candidatura un'altra nomination per il bottellimettere che è Cheryl Lee Ralph non ti chiedo neanche se sei dispiaciuto perché immagino che la risposta valga uguale come per quella per Janelle James sì sì assolutamente e dall'altra parte della barricata dalla parte del attore non protagonista non poteva che portarsi a casa la statuetta la controparte di The Bear quindi Ebon Moss backtrack qua la concorrenza identico a come accadeva tra le attrici non protagoniste abbiamo l'attorone di Only Birds in the Building cioè Paul Rudd un altro di quegli attori del cinema prestati a questa serie tv che evidentemente vuole guadagnarsi nomination agli Emmy solamente pagando tantissimo un attore strapagandolo per fare un ruolo che poi in realtà è un ruolo del cazzo che potrebbe fare chiunque altro Porta a Casa è un premio levandolo non solo a Paul Rudd ma anche a Tyler James Williams per Abbott Elementary Lionel Boyce quindi l'altro collega di The Bear che io avevo votato Paul W. Downs per Axe altro attore e personaggio che non conosco ma di cui ben presto vi saprò parlare perché scatterà in recupero alla fine di questa puntata e Bowen Young da Saturday Night Live di cui avevamo già parlato in precedenza sul fatto che la sua nomination fosse un po' così random su questa vittoria io sinceramente non ho nulla da dire perché Ebon Moss Bacrak che interpreta Richie in The Bear è chiaramente uno dei personaggi più amati dal pubblico perché secondo me molte persone riescono ad empatizzare con un personaggio come questo che è molto molto normale diciamo molto sanguigno e proprio per questo un personaggio abbastanza standard che si trova nelle cucine quindi altro premio strameritato a meno che Fede non abbia qualcosa da dire in contrario se The Bear ha perso come miglior serie comedy si può dire che abbiano tutti vinto tranne Ayo e Di Birri che ha perso contro Gene Smart di Axe per la statuetta come miglior attrice protagonista di una serie comedy che aveva vinto dal punto di vista di non protagonista quindi questo è il cambio che non li ha portato molto bene e devo dire che ovviamente Jeremy Allen White meritatissimo anche se ripeto non è una comedy quindi c'è sempre quello però la seconda stagione lui veramente bravo Ebon Moss Bacrak meritatissimo secondo anno di fila come Jeremy Allen White sono un grande fan di Richie nella serie quindi sono molto contento per lui poi e questa è una chicca importante che so che Aldo non farà piacere Lisa Colon Zayas che ripetiamo essere la moglie di David Zayas personaggio odiatissimo da Aldo in Dexter ha vinto anche lei sorprendentemente battendo comunque delle supporting actress di Abbott Elementor che so che Fabrizio ci è rimasto male però tutto sommato dire che ci può stare anche se secondo me se non merita più per la terza stagione perché la puntata che è stata dedicata ma vabbè di questo ne parliamo l'anno prossimo e tra l'altro io stavo facendo questo piccolo pensiero adesso perché ricordiamo la stagione candidata per questi Emmy è la seconda stagione di The Bear ed è meritevole a mio parere anche Best Comedy poteva tranquillamente prendersi dopo quello ci arriviamo il punto è con la terza stagione visto anche il risultato complessivo quindi una stagione non coinvolgente come le altre molto sottotono molto attendista eccetera c'è il rischio l'anno prossimo che venga sconfitta in tutto e per tutto oppure le daranno un contentino l'anno prossimo mi dispiacerebbe vederlo rimanere all'asciutto per un altro anno però d'altra parte la terza stagione non solo merita dal mio punto di vista soprattutto se la seconda ha ricevuto uno schiaffone di queste proporzioni bisogna vedere se questa stagione è piaciuta o meno alla critica perché onestamente io ho parlato ho letto anche un po' di cose in giro mi sono stupito dal numero di persone che hanno elogiato questa stagione qualcuno ha avuto anche l'ardire di dire è la migliore stagione fatta finora magari mi sono perso qualcosa o ci siamo tutti persi qualcosa che la critica vedrà magari non finirà completamente a bocca asciutta al prossimo anno ma è evidente che un calo anche solo minimo rispetto a quest'anno ci sarà starà De Behar rialzare la posta nella stagione successiva passando oltre e andando invece a parlare di uno dei colpi di scena perché dopo arriviamo all'altro ossia best actress in a comedy series la sconfitta come direbbe Federico della migliore amica di Fabrizio Quinta Branson la sconfitta di Ayo Edebiri e soprattutto la vittoria di Jean Smart in Hux e chi cazzo è Jean Smart mi verrebbe da dire tra l'altro però tanto è quella che alza la statuetta al cielo vedi sto Hux bisogna recuperarlo Aldo non c'è un cazzo da fare facendo un piccolo passo indietro Hux arriva come serie tv nel 2021 su HBO Max io all'epoca vidi il pilot recensi la puntata ma devo essere sincero la puntata non era malvagia la serie tv in generale poteva avere un potenziale ma non avendo grande amore per questa serie tv l'abbandonai a se stessa fatto sta che agli emi del 2022 Jane Smart vince sempre nella categoria best actress in una comedy series nel 2022 per intenderci l'anno in cui Zendaya l'amica di Federico vince per euforia vince anche Jason Sudeikis vince Succession e vince anche Ted Russo come miglior comedy quindi all'epoca diciamo che comedy ce n'erano un po' perché c'era Ted Russo c'era Bottelementary c'era Barry amore perduto che non ha mai vinto poverino The Marvelous Mrs. Maisel Only Murders in the Building e anche Ready Vivo What We Do in the Shadows che probabilmente ci caghiamo soltanto noi tre questo è uno dei pochi che posso dire grazie a Federico diciamo glielo così è contento fatto sta che Jane Smart viene candidata quest'anno e io personalmente non le ho dato niente vuoi perché non le ho dato minimamente fiducia vuoi perché Quinta Branson arrivava dalla vittoria c'era Io e Debiri le altre serie erano molto più toste perché abbiamo Abbott Elementari che ok è della ABC però gli Emmy ha sempre fatto abbastanza bene Io e Debiri neanche a dirlo sta in The Bear quindi non c'è neanche bisogno di presentazione e invece questa Jane Smart si porta a casa un Emmy così all'improvviso nello stupore probabilmente di tutti lei compresa può essere che semplicemente siamo noi che non abbiamo saputo cogliere io ho sbagliato a recuperare avrei dovuto recuperare allora Axe quest'anno e Abbott Elementari l'ho recuperato nel momento sbagliato no più che altro io sarei attento se fossi te Fabrizio a recuperare Axe perché quest'anno ha vinto ma vedo anche altre due serie tv ossia Lutte e Palm Royale sei sicuro che l'anno prossimo non vinca una di quelle due lì? pensavo che fosse la prima stagione e invece mi hai detto che sono tre stagioni quante puntate? totale puntate sono 27 27 da mezz'ora si 25 minuti mezz'ora vabbè allora non sarebbe neanche questo recupero così impegnativo ci penserò perché Abbott l'ho finita quindi mi sa che mi manca una comedy da scoprire in questo momento nella lista così la sensazione però ricordando mi com'era il pilot e com'è più o meno il plot ti dico non è nelle tue corde però ok ok mi guarderò un trailer dai non mi lancerò in questa impresa alla cieca allora quindi abbiamo Gene Smart con Axe una vittoria inaspettata una vittoria che invece non è per niente inaspettata è quella di Jeremy Allen White naturalmente stravince noi naturalmente azzecchiamo tutti e tre questo pronostico ma questo vabbè era forse dato a 1.05 alla SNAI dall'altra parte la competizione non è che fosse spietata sicuramente nomi importanti basti vedere Steve Martin e Martin Short per Only Murder in the Building che loro vengono nominati solamente in coppia perché hanno paura che uno dei due si offenda probabilmente quindi li nominano entrambi Larry David e Matt Berry per What We Do in the Shadows che secondo me era l'unico che potesse essere uno dei papabili contendenti alla statuetta va bene Steve Martin e Martin Short la loro carriera centenaria nello show business ma no Larry David non l'ho visto l'avete visto voi mi sa Carbio l'entusiasmo non lo so l'ho visto soltanto il primo episodio non mi è piaciuto anche qua come Axe la cosa che ci aveva fatto un po' temere a me Federico mi ricordo quando stavano facendo la registrazione della scorsa puntata è il fatto che era l'ultima stagione di Carbio l'entusiasmo e quindi mi ha detto magari danno a Larry David l'Emmy alla carriera citiamolo anche perché poverino era lì in fondo non se lo cagava nessuno c'è anche Di Farao Won Atai ovviamente non sarà mai la pronuncia corretta per Reservation Dogs come di DFX che onestamente non ho idea di cosa sia nonostante la mia cultura nel mondo delle comedi e quindi mi dispiace soltanto per Matt Berry perché si merita qualcosa mi fa un sacco ridere l'abbiamo già citato mille volte ma andatevi a recuperare Garth Marenghi's Dark Place Matt Berry è uno del cast per questo ve lo consiglio volendo potete anche recuperare The Heidi Cloud su Netflix che c'è anche lui non fa un ruolo principale però comunque merita la visione anche quella seria quindi su questa c'è ben poco da dire Jeremy Allen White era stra favorito la sua interpretazione continua a piacere anche a me onestamente piace devo dirlo in questo sono abbastanza basic mi piace quanto il personaggio di Jeremy Allen White Carmen minchia Carmen posso chiamarlo Carmine per favore preferisco Carmine è un personaggio che è tormentato pieno di dolore quindi tutti quanti ci empatizzano chi più chi meno e poi vabbè The Bear quest'anno era ancora con una stagione a pieni regimi quindi era ovvio che si portasse a casa molti premi e direi di procedere direttamente oltre e andare a svelare anche se l'abbiamo già svelato in più di un'occasione qual è la comedy che si è portata a casa la statuetta quest'anno la statuetta quest'anno nella comedy series si è portata a casa Hux alla faccia di The Bear ovviamente ma anche di Carb Your Enthusiasm che abbiamo già citato la serie di Larry David della HBO Holy Murders in the Building serie con gli amici di Federico di Hulu Palm Royale la serie di Apple TV Plus che non conosce nessuno Reservation Dogs la serie di TV di FX che non conosce nessuno What We Do in the Shadows di FX che non conosce nessuno tra le noi tre e ovviamente anche la serie di TV nuova amica di Fabrizio a bottelementari sono rimasto colpito dalla vittoria non è un rimanere colpito per dire che schifo perché non l'ho mai vista qua è più uno stupore di dire ah merita vale la pena di essere vista questa Hux io non so se ho grande interesse nel vedere quanto è profonda la tana del Bianconiglio quindi lascerò all'esperto di comedy del gruppo l'incarico di andare a scoprire esattamente quanto è profonda vi riferirò tutto e sarò come al solito oggettivo giudizio depauperato da ogni ok continuiamo con i commenti ovviamente passeggio per il parco di Yellowstone e con gli scoiattoli in sottofondo commento su la vittoria di Hux che è un miglior serie di comedy devo dire che ovviamente come tutti quanti inaspettato soprattutto perché tutti puntavamo su The Bear scontatamente vista la seconda stagione veramente bella che tra l'altro ha fatto anche vincere migliore regia per Fishes giustamente queste sono delle aniter ok che volano devo dire che Hux che si può trovare comunque su Netflix almeno le prime due stagioni in Italia che io devo ancora vedere come tutti quanti qua sorprendente perché Gene Smart aveva già vinto come migliore attrice protagonista un paio di anni fa sempre per Hux ma la serie aveva perso contro Ted Lasso quindi vederla vincere sorpresa positiva devo dire e soprattutto mi piace pensare che sia dovuto al fatto che The Bear sia valutato dai critici non come una comedy perché altrimenti non vedo alcuna ragione per cui non abbia vinto mi spiace ovviamente per What We Do In The Shadows sempre nel cuore sempre ingiustamente snobbato c'ho il fiatone conclusa la categoria comedy direi di spostarci sul drama oh le finalmente e proseguiamo allo stesso modo quindi vi vado a svelare prima di tutto che si è portato a casa la statuetta per il best supporting actor devo dire la verità per me anche questa è un'altra sorpresa avevamo tutti puntato su Tadanobu Asano per Shogun che secondo me ancora adesso rimane una scommessa più che valida eppure a sorpresa a vincere su due dei suoi stessi colleghi su due attori di Shogun poi Slorsis e The Crown Billy Crudup per The Morning Show per me questa cosa è incredibile perché The Morning Show l'abbiamo già detto in mille occasioni è andato un po' perdendosi negli anni sempre una serie assolutamente sufficiente si può guardare ma non è una serie che adesso come adesso consiglierei perché sarebbe un ti consiglio The Morning Show season one poi dalla seconda cala un po' e non è mai un buon consiglio da dare e Billy Crudup fa lo stesso personaggio dall'inizio si comporta sempre nello stesso modo è questo miliardario CEO è il capo del network e non si capisce mai se le sue intenzioni siano buone o sia tutta una facciata e comunque l'unica cosa che gli interessa è il profitto la fama e tutto quanto forse è questo questa ambiguità di questo personaggio che ha portato alla vittoria di Crudup non lo so onestamente a me non ha fatto impazzire ti dico magari sì meglio di Mark Duplass e Jon Hamm l'Elon Musk di turno l'hanno semplicemente camuffato ma è quello e che intrattiene una storia d'amore con Jennifer Aniston quest'ultima stagione parte telenovela di quest'ultima stagione di The Morning Show devo dirlo quindi non so non sono contento assolutamente non perché non ho azzeccato la scommessa ma perché allora piuttosto che darlo a Billy Crudup lo dai a qualcuno di Shogun tratta da Nobu Asano Takehiro Ira o al massimo ma al che vada glielo dai a Jonathan Price che tanto l'alto passero è dappertutto fa sempre più o meno lo stesso ruolo in ogni serie in ogni film che è il vecchio di merda spacca coglioni infatti vuol far principe Filippo ecco vedi viene sempre declinato in base alla situazione però tutti i personaggi a cui penso mi vengono in mente solamente personaggi che mi danno fastidio dei vecchi di merda e includo il Papa in questo non lo voglio certo escludere e il Papa perché Jonathan Price ha interpretato Papa Bergoglio esatto nei due Papi in Two Popes non perché così a caso me la prendo col Papa non sono ancora arrivato a questi livelli non so cosa ne pensi Federico a proposito di questa vittoria di Billy Crudup ci farà sapere qualcosa visto che anche lui segue The Morning Show giustissima sconfitta tra l'altro di tutti gli attori di The Morning Show come protagonisti anche se mi fa piacere che Billy Crudup abbia vinto come miglior attore non protagonista in una serie drama quello mi fa piacere perché comunque lui brevetto è sempre abbastanza triste è un personaggio che sta bene comunque con una vittoria che fa praticamente da statuetta per tutta la serie che comunque ripeto non dovrebbe essere qua rubando la linea Yellowstone e riportandola in Italia quando abbiamo fatto le nostre scommesse io non avevo visto niente di questa lista non che adesso abbia visto tanto di più perché ho visto soltanto Shogun e le prime due stagioni di The Crown non sono arrivato a Jonathan Bryce quindi sono comunque indietro quindi posso soltanto parlare del fatto che Tadanopu Asano per me resta la scelta migliore soprattutto se tu mi dici che Billy Crudup non riesce a capire nel motivo io Asano sinceramente ho visto in scena abbastanza motivi per essere convinto di una sua possibile vittoria soprattutto se prendiamo in considerazione anche soltanto l'ultima puntata di Shogun dove c'è lui con Iroyuki Sanada c'è il dialogo tra loro due e per me quella è una bellissima sequenza che a Federico non è piaciuta perché c'è tutto il salto temporale che esaltano quella che è la battaglia che lui voleva vedere ma in realtà per me ha comunque senso ma a quello ci arriviamo quando arriveremo a parlare di Shogun volando direttamente invece nella categoria Best Supporting Actress in a drama series c'è la principessa Diana che si porta a casa la statuetta statistiche avverse per Elisabetta De Bicchi che sconfigge ben quattro persone di The Morning Show poi tu mi dirai se è giusto o no tu stesso quindi deduco di no avevi votato per Leslie Manville sempre in The Crown avevo guardato l'attrice più vecchia e ho detto secondo me questa qua glielo danno perché magari l'altra c'ha ancora una chance invece per lei è più facile che tiri il gambino ho pensato si mettessero una mano sul cuore ma effettivamente se tu mi dici che era la principessa Diana è già più facile che va da lei la statuetta eh sì anche perché a livello di somiglianza e di lavoro di personaggio hanno fatto un lavoro con i fiocchi c'è una somiglianza mostruosa cioè hanno fatto un lavoro davvero della Madonna l'ultimo nome nella lista che non abbiamo nominato è Christine Baranski in The Gilded Age serie tv della HBO Federico aveva votato invece Greta Lee che adesso visto che non c'è Federico puoi dirmi era effettivamente quella più credibile tra le nomination di The Morning Show o Federico votato a cazzo come suo solito Greta Lee magari la si poteva dare per favorita per questi tratti asiatici che in questa edizione sembrano costituire un motivo per essere i favoriti si sa che gli americani quando possono saltare sul carro e unire l'utile al dilettevole diciamo diamo un po' di traguardi storici che tra l'altro poi citeremo ci sono stati due traguardi storici dal punto di vista degli Emmy presi da attori attrici asiatici e sì dai ti posso dire che per il personaggio che fa può starci a me The Morning Show non piace non mi piacciono tanto i personaggi non lo so all'inizio erano un po' diversi poi sono andati piano piano ad appianarsi e non mi piace cioè The Morning Show l'ultima stagione non è nulla di nuovo la prima stagione di The Morning Show era bella perché era qualcosa di nuovo poi c'era Steve Carell che secondo me era uno dei punti forti della serie però poi dalla seconda in poi non c'è più quindi sì ti posso dire dai posso motivare lei sulle altre per il ruolo che fa ma per me c'è ben poca differenza lì dentro passiamo adesso alla categoria di Best Actor in a Drama Series dove Hiroyuki Sanada decisamente il favorito qua in mezzo nonostante altri nomi abbastanza importanti ma purtroppo in ruoli non così tanto importanti si porta a casa questo Emmy diventando il secondo attore asiatico a portarsi a casa questa statuetta arrivando soltanto dopo al suo collega di Squid Game Lee Jung Jae che si era portato a casa la statuetta nel 2022 la concorrenza come dicevo era spietata nel senso che avevamo Gary Oldman Walton Goggins Donald Glover Idris Elba anche Dominic West insomma c'erano dei nomi abbastanza imponenti diciamo che escludendo le serie che non ho visto quindi Slors Mr. Smith The Crown mi rimangono soltanto Walton Goggins e Idris Elba sì due performance dal punto di vista attoriale ottime Idris Elba una parte che non è che fosse la parte più ispirata della sua carriera Walton Goggins ha fatto un ruolo in una serie come Fallout che è stata un fenomeno eravamo anche lì con Iroyuki Sanada secondo me un paio di spanne sopra rispetto ai suoi contendenti Iroyuki Sanada che fa la storia ma qualcun altro dall'altra parte che fa ancora di più la storia nella categoria Best Actress in a Drama Series ovviamente Iroyuki Sanada ce lo aspettavano tutti sono contento perché il Dogen di Lost finalmente si è portato a casa qualcosa dopo Iroyuki Sanada abbiamo la prima donna asiatica a vincere un Emmy che è Anna Sawai qua io avrei da ridire alcune cose perché come Federico l'ho vista in Monarch devo dire che mi ha fatto molto cagare personalmente non ho visto le altre nella lista però non sarebbe stata un nome a cui avrei dato così tanta fiducia avendo visto la serie adesso ti posso dire visto che ho guardato almeno The Morning Show che tra Reese Witherspoon Jennifer Aniston e Anna Sawai allora lo do tranquillamente ad Anna Sawai poi non ho visto The Crown non ho visto The Hill and Age non ho visto Mr. e Mrs. Smith quindi non posso dare un giudizio completo ma fra queste tre almeno lei resta tranquillamente sopra ok mi è quasi convinto no più che altro perché cioè allora nel complesso Shogune non sfigura rispetto a quello che è in Monarch però non mi dà neanche l'idea di quella interpretazione che dici buca lo schermo mi ha conquistato prendo un Hiroyo Kisanada allora lì posso dire si tiene sullo show in molte situazioni da solo io avevo personalmente votato Imelda Staunton l'hai già incontrata in The Crown è un personaggio che arriverà dopo arriverà dopo anche perché io sono indietro di 40 anni quindi sono alla generazione prima purtroppo però mi colpisce che c'è anche Reese Witherspoon che pensavo fosse più occupata ad adattare libri piuttosto che recitare invece recita anche nei pochi ritagli di tempo che le restano e tanto la nominano sempre basta che reciti in The Morning Show e bam tutti gli anni è lì e comunque sì Anna Sawai prima attrice asiatica alla vincere un Emmy ovviamente vittoria di carattere storico perché siamo nel 2024 ed è la prima può ci fa anche essere qualche anno prima è storico per farci capire che nel 2024 è arrivata la prima asiatica che ha vinto pensa un po' e adesso ovviamente ringraziamo molto Shogun perché ci sarà un'altra ondata di prodotti a stampa orientale che arriveranno su cazzo di Netflix che ovviamente tutti i mesi ci dovranno essere propinati da Federico che vorrà convincerci che è qualcosa di bello molto contento anche per Iroyuki Sanada e Anna Sawai perché hanno vinto entrambi le statuette mi fa molto piacere devo dire un po' di riflesso ovviamente perché ha vinto la serie come miglior drama e quindi c'è anche una motivazione data dagli attori dalla loro recitazione quindi molto contento so che Aldo dirà sicuramente continua questa ondata asiatica di Hollywood che vuole pulirsi la coscienza eccetera cazzate sono meritati soprattutto perché per ruoli abbastanza difficili e ripeto che Anna Sawai dopo averla vista in Monarch la serie tv su Godzilla King Kong e vederla qua c'è un abisso quindi brava un Emmy alla fiducia e al futuro ma ovviamente arriviamo alla categoria più importante quella che tutti si aspettano non è andata minimamente diversa rispetto a quello che ci aspettavamo noi stessi perché abbiamo detto tutti e tre vince Shogun e infatti ha vinto Shogun era easy questa qui infatti siamo partiti mi ricordo dicendo boh qui andiamo sul sicuro e votiamo Shogun già avevamo previsto un'ondata di premi appunto di importanza storica e per forza di cose tra le serie che sono qua nominate va bene Fallout per cuore capito il cuore mi porta a dire mi piacerebbe vincesse Fallout ma sai benissimo che non succederà mai le altre disposizioni adesso che ho visto anche Triwadi Problem mi chiedo perché sia lì perché da lì a essere nominata addirittura come miglior serie agli ami forse lì abbiamo un po' sbragato però se ci sono anche The Morning Show e Mr. e Mrs. Smith che mi pare di capire che non abbia avuto tutto questo successo ci può stare anche quella Shogun è la scelta più logica ed è andata così e va bene siamo tutti contenti vince coronando comunque questa performance incredibile perché quando ti porti a casa 18 statuette su 25 nomination secondo me la statuetta per miglior serie te la porti a casa quasi d'ufficio quindi congratulazioni a tutti quanti a tutti i giapponesi vittoria meritata serie che consigliamo ovviamente come se ci fosse bisogno di farlo hanno coperto il vuoto dettato dalla mancanza di Succession perché ricordiamo l'anno scorso era stata la serie che aveva massacrato chiunque si opponesse e quest'anno hanno colmato il buco con questa serie tv che merita è diventata antologica quindi tornerà motivo per cui non è nelle limited series quindi mini serie tv ma nelle serie drama ci sarà il famoso peso da portarsi dietro nelle prossime stagioni e speriamo che non diventi una tiritira come true detective quindi è però la prima stagione di Shogun era molto più bella speriamo che non diventi così perché altrimenti siamo rovinati mi dà un po' quelle vibes da Narcos che doveva essere una serie sui narcotrafficanti però hanno esordito con Pablo Escobar quindi era impossibile eguagliare quello che è alla fine il re degli spacciatori di tutti i tempi quindi secondo me si sono già giocati un bel po' di carte vincenti con la prima stagione e si puntano all'antologia dovranno fare qualcosa di altrettanto bello se no ci starà sempre come dici te il confronto con questa prima stagione dei record speriamo stiamo a vedere soprattutto con la seconda stagione cosa si inventeranno lasciamo l'ultimo commento a Federico quindi Federico dicci pure la tua poi tanto tagliamo le frasi le mettiamo dove vogliamo noi lui tanto non lo scoprirà mai l'altro drama allora la vittoria di Shogun bene mi rende molto felice è meritatissima anche se sono un po' triste perché ovviamente doveva essere una serie limitata invece con la candidatura fatta da FX e Ulu per serie drama si è capito che non faceva parte di quella antologica o limitata quindi di questo abbiamo già parlato ma si può comunque commentare dicendo una bella rivelazione noi ricordo che ai tempi del trailer l'avevamo ampiamente snobbata dicendo questa l'ennesima cazzata fatta da americani che vogliono fare la storia di civiltà che non li riguardano e invece molto bravi meritatissima mi dispiace un po' per Mr. e Mrs. Smith anche se comunque non meritavo di vincere la statuetta free body problem sapete come la penso non dovrebbe essere assolutamente qua The Crown secondo me ci ha perso un po' potenzialmente visto i premi non c'è stato un dominio assoluto direi che aveva qualche possibilità a posteriori The Gilded Age non mi metto neanche a commentarlo e Fallout vabbè piacevole ma non merita il titolo mi sono dimenticato di dire che ovviamente The Morning Show è un insulto che sta qua è un'opinione condivisa e invece Slow Horses continua a essere un bel punto di domanda per quanto mi riguarda perché tra l'altro ieri mentre stavo guardando in diretta c'era la sezione live nel sito degli Emmy è venuto fuori Slow Horses winner of Outending Drama Series e ho detto no come cazzo è possibile invece poi se sono corretti perché ha vinto la sceneggiatura di un episodio e quindi ho detto ok a posto mi sento meglio con me stesso detto questo salutando Federico magari ripetiamo noi metteremo online la puntata potrebbe essere anche questa postuma perché Federico potrebbe benissimo non tornare dall'America lo scoprirete insieme a noi prossimamente sappiamo che è atterrato ma comunque ci sono ancora un po' di viaggi per cui può andare tutto a rotoli basta una cosa che vada storta ed è finito tutto detto ciò direi che possiamo salutarvi e darci appuntamento alla terza puntata di questa quarta stagione quindi con la puntata riguardante i recuperi estivi che ci hanno visto occupare il nostro tempo libero durante l'estate con serie e film di dubbio gusto principalmente io almeno gli altri spero che abbiano visto qualcosa di decente quindi un saluto da Brescia periferia provincia da Edimburgo e facciamoci salutare anche da Federico se ci ricordiamo di farci dare la registrazione ah no Federico ormai è già andato è lontano ciao amici e quindi niente un salutone ciao ciao you know that gets funnier every time you're being sarcastic but I think it does actually get funnier every time